Maurizio, parto da te, voglio sapere cosa ne pensi di tutta questa vicenda, anche di questa lentezza infernale, appunto ci hai raccontato l'altra volta tu la storia israeliana, io poi sono entrato molto dentro in quella storia, ho fatto molti collegamenti con Israele, che per carità è un paese diversissimo da noi sotto mille punti di vista, però certo appunto, in Israele è esattamente così, cioè il vaccino è stata una cosa facile alla portata di tutti, si è fatto rapidamente. Maurizio. Io penso sinceramente che Draghi stia andando sulla strada giusta, che è quella di dotare il nostro paese di una struttura di vaccinazione di massa, credo che il generale Figliuolo, il nuovo capo Curci della protezione civile e anche in qualche maniera Gabrielli fanno parte di un team molto stretto che interpreta la salute come un elemento della sicurezza nazionale, di conseguenza studia un'operazione logistica capace di andare incontro a quei numeri che proprio adesso venivano giustamente indicati come il minimo necessario. Il fatto che in aprile il governo prevede l'arrivo di circa 15 milioni di dosi di vaccino significa che entro fine aprile noi potremmo avere, diciamo, puntando un terzo della popolazione vaccinata. Questo naturalmente se funzionasse così, se aprile sarà davvero il mese dell'inizio della vaccinazione di massa nel nostro paese, sicuramente avremmo fatto un passo molto importante per arrivare in una situazione diversa all'inizio dell'estate. Credo che un po' questa sia la direzione di marcia del governo. Grazie. Grazie. Grazie.